Ciao, io sono John Wick. È un messaggio molto importante per gli amici che ho a Carrara. Di recente, a causa della tempesta, del terribile tornado che ha distrutto molte auto, i cittadini di Carrara sono abituati ad arrangiarsi, ma questo è un messaggio molto importante, perché adesso è ora di dire basta. È ora di dire basta. E come un mio caro amico di Carrara dice spesso, Ehi! Avvore durata, eh! E poi dopo la gente c'è un cazzo! Dopo un'epilostiop gli fa una bandetta, no? Ma è possibile che quando avevi un po' da venta li puoi buttare a Nicò? Eh? Cal fatto che il dottor Rani ha messo il mutolino appuncimato nella tua matala gildona. Ma avete l'altro il cazzo? E date un'occhiata a chi cazzo d'alberi lì, no? Ogni tanto. Che chi è avvenna a coreggia a buttare a Nicò? Oh! Oh!